Se il tuo desiderio è di avere una relazione stabile o, peggio ancora, di mettere su famiglia per dire iniziare a frequentare un uomo impegnato non è mai una buona idea. Per quanto tu possa conoscere tutte le strategie di seduzione, per quanto tu possa attraverso delle strategie farti pensare da lui, non è mai una buona idea. Spesso queste storie iniziano, magari iniziano, lui le inizia per gioco, tu le inizi con la speranza di poter trasformare qualcosa, no? E poi è ovvio che intanto, esatto, un cintrullo non diventa mai una parmigiana, brava, brava. La nostra saggia, Sissi, la fidanzata di Pippoli, vedete che adesso ci sono Sissi e Pippoli. Quindi comunque questo è un punto molto importante, no? Dobbiamo tenere presente che, ad esempio se questa persona è impegnata, la storia, sarà sempre la stessa. Cioè qualunque persona sposata, qualunque persona impegnata, ti racconterà che sta vivendo un rapporto insoddisfacente con sua moglie o anche con la sua fidanzata. Ti racconterà che è solo con voi che si sente capito. Ti racconterà che la passione le ha date solo voi. Vi dirà che ama soltanto voi. Poi, quando voi vi monterete la testa e avrete, come dire, vi alimenterete di speranza e vi alimenterete di speranza e inizierete a dire, inizierete a dire che cosa? Inizierete a dire che, inizierà a dire che però ama soltanto voi, ma si tiene però, ma si tiene però la moglie. Perché non ne può fare a meno, ma non perché ama la moglie. Ama voi, state tranquilli che ama voi, però si tiene la moglie perché con la moglie c'è i figli, con la moglie c'è questo, con la moglie c'è il mutuo e quindi voi vi deprimerete perché sarete delle befane, befane che non verranno presa in considerazione. Qualcuno andrà anche in depressione, no? Quindi nella vita, ovviamente tutto è possibile, ogni storia, ogni storia diciamo è una storia a sé, ma le vostre speranze sono speranze vane. Quindi questo è il punto fondamentale. Se ti vuoi accontentare di essere la seconda, la seconda, di essere al secondo posto o al terzo posto. E poi un'altra cosa, vecchie carampane, come potete pensare che un uomo che tradisce la moglie sarà fedele a voi? Questa è un'altra cosa allucinante, no? Non lo potete sperare. E ma guarda te quello stronzo, uh, sai che c'ha un'altra, l'ho visto, è andato con un'altra, è andato con un'altra, è perché va bene la moglie, va bene la moglie, la moglie, è ma con un'altra no, è ma con un'altra no. Quindi come potete, carampane che non siete altro, pensare che uno che fa le corna alla moglie poi sia fedele con voi? Ma non è vero, no oggi, oggi è cornuta lei e oggi sei cornuta anche tu, perché non è che domani, anche oggi ti farà le corna. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi, quindi la prima cosa che dovete fare per farvi pensare da una persona è farvi pensare dalla persona giusta, perché se vi fate pensare dalla persona sbagliata non avete capito un cazzo, non avete capito un cazzo. È più facile trovare una persona nuova che, diciamo, mangiarvi le briciole dalla persona sbagliata. Questo non è che ci va una scienza a capirlo, non è che dovete avere la scienza infusa per comprenderlo, per capirlo. È un fatto che è abbastanza logico, è un fatto che è naturale. Però se voi non ve ne rendete conto, cazzi vostri. Cioè non è che qualcuno, diciamo, da questo punto di vista dirà, eh vabbè, ma le cose come mai, ma perché vanno in questi modi, ma io vorrei questo, vorrei quell'altro. Tu non puoi volere un cazzo, tu non puoi assolutamente volere un cazzo. Le cose stanno in questi termini, non c'è nient'altro da fare, devi prendere atto di questo. E questo è il punto fondamentale, no? Devi prendere atto della realtà. E la realtà ti dice questo. Non ci sono altre chance, non ci sono altre possibilità. Non c'è altro modo. Quindi questo, tienilo presente, che è l'unica verità che devi tenere presente. Allora, quindi, poi ovviamente parlando di persone sbagliate, che voi, con cui voi vi andate in pelagare, diciamo, quindi tu devi imparare, per prima cosa valutare con chi devi uscire. Allora, allora,